Bella lì fratellini, benvenuti in questo primissimo video di Tokyo Revenger Puzzle Game, non so come volete chiamarlo che è il rimpiazzo di PuniPuni momentaneo per me, poi voi continuate a giocare sapete che io non ho più PuniPuni e dicevo nel gruppo Telegram, gruppo che trovate in descrizione, che stavo aspettando il momento giusto per registrare questo video perché devo pullare raga, devo pullare e come ben sapete stavano facendo i lavori al piano di sopra e non potevo né fare video né registrare perché martellavano non stop e mi scoppiava la testa, sentite che sono anche un po' raffreddato però va bene così allora, voi ci giocate già a questo gioco? Sì? No? Boh? Forse? Siete interessati? Scrivetemelo nei commenti, lasciate like io direi di iniziare la situazione, non sto entrando da qualche giorno perché essendo stato male era un po' così allora, infatti c'è un bellissimo aggiornamento da fare, un magnifico aggiornamento da fare allora, il gioco è molto semplice, abbiamo ricevuto addirittura 100 diamanti che ci saranno per pullare altri 300, molto bene, molto molto bene il gioco raga è semplicissimo cosa sta succedendo? Chi continua a fare robe? oh io voglio lui ma ce li sta regalando queste cose qua? mamma mia drunken c'è l'instein, lo voglio? se non ce l'ho già, lo voglio ah, Happy Birthday Gacha, ok, si deve già pullare raga si deve già pullare allora, stavo dicendo, questo gioco stavo dicendo questo gioco è praticamente Candy Crash è Candy Crash prima di pullare vi faccio vedere una partita che magari siete interessati vi chiede sempre di cacciare la grana, ovviamente ogni 7 secondi dovete cacciare la grana io sono andato un pochettino avanti vediamo un po' se ci ha dato qualcosa una fava sono andato un pochettino avanti però non tanto avanti sono tipo al terzo livello vedete raga, è semplicissimo praticamente in alcuni momenti gioca da solo è praticamente Candy Crash easy, proprio di una morbidezza fotonica faccio così sbadabam, sbadabam avanti questo è essenzialmente il nostro gioco ma non ce lo fa scoppiare così? speravo di sì proprio morbido mi sono ancora tutto intasato, dottore è questa è una bella sberna che si prende bene voi lo conoscete Tokyo Revenger? vi piace il il manga, l'anime? non so che cacchio fate voi praticamente all'inizio vi vi chiede il personaggio che volete usare io scelto Draken perché è troppo figo potete scegliere anche Takemichi vedete sta giocando da solo dobbiamo rompere 10 di quelli ci dobbiamo impegnare perché abbiamo 13 mosse per farlo ed è un po' una rottura sta cosa qua easy easy abbiamo fatto S siamo troppo forti voglio pullare tra l'altro non ho mai pullato ragazzi non ho mai pullato in questo gioco e voglio farlo e possiamo schippare sono troppo curioso di capire che cacchio c'è vai no 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 che fai? non sono proprio un ritardato sono proprio un ritardato sono proprio un ritardato usciamo ritiriamoci come fallita la mia ampia è una battuta perché lo stavo rifacendo dobbiamo andare a pullare gaccia intanto vediamo se ci regala qualcosa no? i soldi non te li do collezioniamo tutta sta situazione oppure questo non abbiamo più nient'altro puzzle c'è qualcos'altro di regalo? lift collezionato incredibile incredibile vai raga andiamo a pullare allora possiamo fare qua non lo so non lo so come si fa? come si fa dottori? dove pulliamo? you got a stamp sono molto curioso di trovare quello giusto Tokyo Manjigang warbelovebikes gaccia allora vediamo i raid cifuyu 1% takemichi 0,4 da 3 cavolo è un bordello ma io voglio quelli di natale cifuyu mangi mangi mangiano tanta roba come si fa a fare questo? un 100% di rate di 3 stelle proviamo a fare questo no dai Anakin vai giù proviamo a fare questo ci costa 3.000 noi abbiamo 2 perché c'è scritto free? ah ho chiesto quelle che ci danno vai proviamo a pullare il primo biglietto gratis ah che bello che ci stanno la mano come ci stai dando? è una roba grossa? è buono? chi può dirlo? no vabbè ne abbiamo uno nuovo posso schipparlo? no eh vabbè l'abbiamo droppato lui ok va bene va bene e io però non so se devo fare questo ah paid diamond only ok no dobbiamo fare questo qua ce l'ha scritto così vai pulliamo mamma mia la prima multi raga la prima multi non so neanche cosa ci ha regalato dai roba grossa roba grossa oh non cambiano colore qua come si fa a capire se è una buona pull? non ce lo dice? ah della valalla bah poca roba dai ah lei bello mi piace inata lei spacca oh qui si deve ancora capire a cosa servono ne abbiamo appena trovato fufferia dai noi vogliamo le cose grosse vogliamo le cose grosse no dai please please guarda gli da sempre le stesse cose dai ma sto qua rotto ma c'è solo lui c'è solo lui questa sembrava una cosa figa invece limit break limit break cioè dai pulliamo ancora vai pulliamo sempre qua mamma mia raga io voglio pullare in live con voi vai tappa tappa oh perché ce ne sono due gialle le due gialle sono buone? le due gialle sono buone? sì cazzo sì quanto spacchi madonna santa quanto sei figo santo dio vabbè fufferia questa l'abbiamo già trovata dimmi che non era questa la gialla ci fu io mamma mia draken draken tre stelle è sbaro ragazzi spettacolo se tutti i personaggi un po' stupidi che non servono a niente mi sa che la seconda gialla era sì era proprio quell'immagine mamma mia dobbiamo metterlo subito in team dobbiamo subito metterlo in team anche perché non abbiamo più nient'altro bisogna metterne così tanti molto bene dunque abbiamo fatto il team 1 auto saliamo di rank incredibile incredibile spettacolo 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 oh va bene va bene sono stato troppo contento aspettavo questo momento da tempo di pullare voi cosa state trovando avete trovato roba grossa più grossa di draken sono troppo contento era veramente veramente figo noi ci vediamo al prossimo video perché sento che stanno iniziando a lavorare qua sopra fate i bravi se non usciranno altri video prima di natale buon natale raga bella lì ciao ciao